Calcio Calcio, eccellenza. 20 miglia, serve la reazione immediata. Mister Caverzan, la sconfitta di Alassio è unesperienza che serve. La sconfitta di Alassio è unesperienza che serve, limperia è la più forte del campionato. Riassume così la settimana intensa in casa 20 miglia il tecnico Andrea Caverzan, dopo la tremenda sconfitta inamichevole sul campo dell'Alassio FC per 0-7 sabato scorso contro un avversario di promozioni. Obiettivo reagire. Domenica pomeriggio, calcio d'inizio ore 1800, allo stadio Ciccione scatterà la stagione ufficiale del 20 miglia che sfiderà nella prima giornata del gruppo A della Coppa Italia eccellenza limperia di Ben Cardini. I Granata devono reagire con la cabala in Coppa alla loro portata dopo la vittoria firmata Miceli della scorsa stagione. Ai nostri microfoni mister Caverzan analizza la situazione e guarda ai nerazzurri. La squadra ormai mi conosce bene, dichiara Caverzan a Riviera Sport.it, e queste sono esperienze che servono. Avevamo fatto bene contro squadre di categorie superiori come Argentina e Sanremese e forse abbiamo pensato che contro una squadra di promozione bastasse affrontarli, sapendo di essere di una categoria superiore. Fortunatamente sia in Coppa che in campionato siamo ancora tutti a zero punti. Per domenica contro l'impera mi aspetto solo di vedere il 20 miglia che conosco, sottolinea il mister meno che gioca con lo spirito giusto e si diverte, sempre consapevoli e rispettosi del fatto che affrontiamo la più forte del campionato in casa loro. Ciao!